vediamo adesso come poter strutturare quello che è una palazzina in modo manuale abbiamo inserito quello del condominio i dati principali adesso selezioniamo qui sul lato sinistro e clicchiamo aggiungi palazzina all'interno della palazzina io devo andare a inserire quello che il piano allora potrei sfruttare come già abbiamo visto in un video precedente come poter creare una palazzina in modo automatico in questo caso però faremo vedere un attimo velocemente come creare i vari elementi quindi aggiungi prima di tutto il piano una volta che aggiunto il piano altezza dal suolo quindi questo qua è il piano diciamo terra che è leggermente rialzato dal piano stradale che il piano 0 di riferimento mettiamo quindi un metro e 25 quindi ne vado 1 di 25 l'altezza del piano mediamente siamo sui 3 metri da terra una volta inserito io posso aggiungere le unità immobiliari quindi abbiamo due unità appartamenti immobiliari quindi unità immobiliare mettiamo un'unità 1 proprietario rossi ok e scende di piano è rialzato ok e all'interno possiamo inserire quelli che sono i vani e adesso vado a inserire giusto dei vani di rappresentazione perché vi voglio far vedere una cosa molto importante perché come funzionalità io posso inserire una una parametria di vg per poter poi andare a generare calcolare in automatico quelle che sono i metri quadri e adesso ho preso degli esempi elimina eventualmente un'unità e di mia il vano ok perfetto diciamo che va bene queste tre rappresentazioni andiamo inserire i dati unità unità 2 vado ok andiamo inserire il proprietario bianchi ok e così via poi potrei andare ad aggiungere un secondo piano quindi piano secondo vedete in automatico se va si è andato praticamente ad adattare quello che è l'altezza se vado a l'epilogo vediamo che man mano si sta strutturando quello che è la mia palazzina piano secondo e posso aggiungere quelle che sono le varie unità e così via partiamo adesso dal fatto che ho creato quindi unità 1 creato dei vani andiamo acquisisci la grafica cosa vuol dire acquisisci la grafica mi permette di caricare quello che importa file un file dvg quindi vado a importare e a scegliermi il file presente all'interno quindi in questo caso eccola qui dovrebbe essere questa la palimetria ho la possibilità di caricarmi quello che vado all'interno della gestione cad innanzitutto posso fare una data disegno so che questo lato e a questo punto a questo punto e 4 metri e 30 quindi vado a fare adatta disegno per una corretta computazione superficie richiesto che la scala di disegno sia in metri quindi si selezioni due punti ok di disegno quindi io so che questo punto a questo punto e 4 metri e 30 infatti più o meno ci troviamo e ok e vado a applicare il fattore di scala quindi adesso è scalato correttamente quindi posso selezionare quello che il mia unità del vano unità 1 e posso inserire quello per ad esempio andiamo a inserire questo che è il il bagno quindi per punto interno potrei selezionare punto interno oppure per più comodo polilinea per di linea vado a prendere i vertici dell'area di inserimento eccolo qua e vado a chiudere tasto destro ecco qui bagno 2 metri 2,69 metri quadri e quindi in automatico mi è andato a inserire quello che è la struttura lo stesso discorso posso quindi andare inserire per esempio la camera polilinea ad esempio io vado qui vado a delimitare quello che è la mia metri quadri di interesse camera ridimensionamento testo mi chiede conferma se il tasto destro ok e poi vado a indicare quella che è la dimensione appunto del del testo poi ovviamente col clip lo posso postare quindi ridimensiona testo seleziona vado a ridurre ok questo l'avevo già selezionato due volte ok conferma seleziona e vado a inserire a migliorare quello che sono i testi di sovrapposizione quindi man mano posso andare a scegliere quello che a calcolarmi quelle che sono i metri quadri quindi posso fare salva e chiudi ok salviamo anche il mio file di riferimento ok e quindi automaticamente vedete mi trovo già calcolati quelli che sono i miei metri quadri e così via vi posso già calcolare quindi tutto quello che il volume virtuale poi a seconda del piano inserito e così via lo posso fare per tutte le unità immobiliari e quindi caricarmi acquisito da grafica quella dell'informazione dei metri quadri